Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati in un nuovo video Allora, l'altro giorno guardavo online qualche video di ragazze che spacchettavano cose prese e acquistate in edicola Per cui ho detto, vado in edicola e faccio incetta anch'io E una cosa curiosissima che ho trovato è stata, grazie a Abbinato a Too Style con, vedete che belli Io quando andavano di moda tantissimo tempo fa li adoravo e sono i braccialetti cruciani Ho trovato Marte, omaggio all'uomo che inventò il futuro Non ho trovato altre fantasie ma insomma sono contentissima di aver trovato almeno questa e l'ho pagata appunto 2 euro insieme anche alle riviste E poi ho trovato queste fantastiche bustine che sono le Gorgio Santoro che io adoro, stra amo e ne ho presi ben 3 pacchetti Sono 1, 2, 3, 4, 8, 12, sono 12 da collezionare e sono diciamo quelle profumate Bellissimo ragazze, ecco c'è scritto anche 12 gorgeous profumate E non vedo l'ora di aprirle, ho aspettato appunto di fare il video per farvele vedere E così le spacchettiamo insieme E queste sono dei Agostini e le ho pagate 3,99 euro l'una Quindi spacchettiamo Allora la prima cosa che voglio aprire è il cruciani Per cui andiamo andiamo Cerchiamo di aprire senza farci male Vediamo un po' Eccolo qui Togliamo quello Cioè io adoro, adoro, adoro questi bracciali Che naturalmente sono originali Qui dietro c'è scritto appunto quello che vi leggevo prima Marte è omaggio all'uomo che vendò il futuro Vediamo Eccolo ragazze ma non è bellissimo E di questo colore è simile al dorato Bello Semplice E va benissimo sempre Qui ci sono le istruzioni per poterlo mettere Insomma in modo tale che non Non esca Penso che siano 4 10 step quindi uno dietro l'altro Proprio per evitare che appunto il bracciale poi si sciolga Insomma si perda Che bello che è Bene 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 Ora invece apriamo queste Non vedo l'ora ragazzi Speriamo che non mi ascano dei doppioni Oh hanno l'apertura facilitata quindi via le forbici Apriamo 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 Allora vediamo Oh mamma quella con il coniglietto Che bella Ragazzi è bellissima Si chiama I love you little rabbit Dentro qui abbiamo sempre tutte Quelle che è possibile collezionare È possibile trovare E qui c'è la sua identità Che bella Che è Profuma di giglio Vediamo apriamola No ragazzi ma è bellissima Aspettate che la mette a fuoco Eccola È stupenda È fatta benissimo Cioè i capelli sono spettacolari Devo mettere la mano per farla mettere a fuoco Ma è stupenda Ma il coniglietto Ma quanto è bello Le calzine No vabbè spettacolare Bellissima E il cuoricino di sotto Che praticamente si mette lei su Per farla mantenere No ma cioè ma è uno spettacolo Bella Bellissima Sì ragazzi è profumatissima Wow Allora mettiamo questa qui Col suo cuoricino Qui da parte Apriamo la seconda Ah questa Ero già dimenticata Che aveva l'apertura facilitata Speriamo che non esca un doppione Perché dalla carta Mi sembra lo stesso colore Non un doppione Non un doppione Non un doppione Non è un doppione Mai Aon Universe Ed è quella Con la Coroncina No vabbè Ma è bellissima Ha lo stesso colore Di calzini Probabilmente L'avranno tutte Queste calzine Di questo colore Spettacolo Ragazze E ti affuoco Wow Guardate quanto è bella Con quelle due trecine Che scendono I capelli Sono fatti veramente bene Ma anche il vestitino Cioè Bellissima Davvero Uno spettacolo Il cuoricino È così Leggermente diverso Il colore Ma molto simile All'altra Bello Questa sa di No non riesco a capire La profumazione Leggiamola Profuma di ananas Sì dai Sì ora che lo so Sì è vero Profuma di ananas Bellissimo Anche lei Che spettacolo No ragazze Cioè Io impazzisco Probabilmente Ve lo dico in anticipo Io le collezionerò Perché sono Stupende Stupende Ora apriamo Ora apriamo L'ultima Ma no Ma è uscita Di nuovo Quella con Il paniglietto Ma no Ma mi è uscito Un doppione Ma sul tre È uscito Un doppione Ma non è possibile Ma quanto sono Sfortunata Ma dai Su tre bustine Non dovevo Uscire Un doppione Vabbè Mi è uscito Un doppione Sono triste Ragazze Ma non dovevo Uscire Un doppione Me ne sono uscite Due con il coniglietto Che poi Sono stupende Però Non dovevano Uscire due Con il coniglietto Uffa E poi c'è la regina Però ragazze Sono veramente Spettacolari Mi piacciono Tantissimo Quindi I cuoricini Sono così Di appartenenza Quindi Prendiamo Anche Il braccialetto Questo È Il mio Bottino Preso In Edicola E Se avete Qualche altro Sapete Conoscete Qualche altra Sorpresa Che è possibile Trovare In Edicola Mi raccomando Lasciate un commento Qui sotto E scrivetemelo Perché io ragazze Adoro Collezionare Queste cose Ma Adoro Quindi Probabilmente Sicuramente Tornerò in Edicola A prendere altre Di queste Perché sono Veramente Bellissime E Spero di trovare Anche qualche Altra Sorpresina Carina Con questo è tutto Vi saluto E ci vediamo Al prossimo video Ciao